benvenuti all'ottava puntata di givina in tv aria di carnia sapori di folk grazie a tutti le shop è rivolto esclusivamente alle grandi aziende oppure lo stesso può essere utilizzato anche dall'artigiano dal piccolo commerciante per promuovere a chilometro zero attraverso il web il proprio prodotto ciao intanto mi presento sono carnia voice la voce di made in carnia omar le shop di made in carnia è rivolto a tutti non solo alle aziende ma anche ad artigiani e piccoli negozi che cos'è un e shop? l'e shop è una piattaforma dove si possono acquistare prodotti e farseli consegnare direttamente a casa quello che abbiamo creato per made in carnia ha delle particolarità vediamolo come un grande centro commerciale della carnia dove ogni negoziante artigiano apre il suo negozio virtuale carica i suoi prodotti comunica direttamente con i clienti e fa arrivare i suoi prodotti in ogni parte del mondo attraverso il nostro canale attraverso il nostro canale attraverso il nostro canale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.